Ciao a tutti, ciao amici di mamma, io sono, anche la nonna sono io, non la mamma, no? Sì, dai non scappare via, dai, sono ancora tantosimi questi cazzini, dai ti voglio presentare i miei amici, sì io sono Francesco, sono Francesco detto Frenzi, questo forse ancora non ve l'avevo mostrato bene, ma qui hanno combinato un casino con lo mangiare, ma cosa avete combinato, cosa avete combinato, dimmi cosa avete combinato, dove sono i tuoi fratelli? Dove sono? Sono ancora timidi questi cazzini, ciao amici, oggi vi saluto dal mio giardino, buongiorno a tutti, e niente cosa volevo dirvi, volevo dirvi soltanto che ho fatto un po' di puliti al mio boschetto, guardate un po', è bello, adesso pulito, adesso devo dire, lì ci sono ancora delle bietre, sono delle materie che mi servono, che devo continuare a fare il pavimento e mi serviranno, e questo stanno ancora là, e poi abbiamo votato un po', un po' di puliti al radicale, ogni tanto ci vuole, è vero amici, ok, vi volevo mostrare solo questa cosa, scusate, e darvi un buongiorno, augurarvi una buona giornata, e niente, i fiori sono finiti, sono, non so poco che cuoresce adesso, c'è qualche cuorellino che è rimasto, qui ci sono, la mia rosa, questa pure penso che non ne farà più rosa, me la devo anche votare, che ha preso di nuovo quella malattia là, anche se è meglio, non è tanto grave, e l'ubispo sta facendo qualche, sta mettendo qualche fiore ancora, ok, ok carissimi amici, i febroncini, pure ci sono ancora, ecco qui c'è un'altra guancia di febroncini, che si è fatta bella grande, però, non ci ha fatto tante foglie, pochi febroncini, c'è qualche fiore ancora, adesso faccio qualcosa di sbagliato, non lo so, perché faccio pochi febroncini, invece questo ne ho fatti molti, ma li ho già tolti, ce n'è ancora qualcuno, il mio bonsai di febroncini, le rose penso che non feriranno più, ecco, l'ultimo fuori del mio giardino, per il momento, qui c'è ancora una guantina che ferisce con un ave, guardate un po' che bello, sono andato, no no, sta là, ave o vespe, io non le riconosco, non lo so se sono ave o vespe, buh, bello, no, bello osservare la natura, ok, e tutto anche qualche fuori del mio altro, comunque sono gli ultimi per il momento, anche se questo mi furiscono tutto l'inverno, e questi anche furiscono l'inverno, mi sembra, ok, carissimi amici, vi saluto dal mio giardino oggi, ciao a tutti, un bacio, un abbraccio alla Lina, sempre come al sole, vi raccomando, di un pollice in su, iscrivetevi e condividete, ciao al prossimo video, e anzi no, vi voglio dire una cosa che vi lascio adesso, dal mio giardino, passiamo al giardino, al giardino giapponese, che si trova in Inghilterra, mi hanno mandato un video e lo voglio condividere con voi, buona visione a tutti amici, ciao, al prossimo video. Ciao, ciao! Fai, 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 fai Grazie a tutti